Nel corso di questo mese di maggio, con tanti fedeli, ci siamo uniti in preghiera, con vari santuari sparsi nel mondo intero e a Te dedicati, oh Maria, nostra Madre Santa. Ti abbiamo chiesto di intercedere per noi presso Tuo Figlio Gesù. Ogni giorno, tenendo tra le mani la corona del Santo Rosario, abbiamo rivolto i nostri occhi a Te, Madre di Misericordia, supplicandoti perché finisca la pandemia e l'umanità possa riprendere la vita di ogni giorno con maggior sicurezza. Stasera ci raduniamo di fronte a Te, nostra Vergine Madre venerata in questa immagine come colei che scioglie i nodi. Tanti, infatti, sono i nodi che si stringono attorno alle nostre esistenze e legano le nostre attività. Sono nodi dell'egoismo e dell'indifferenza, nodi economici e sociali, nodi della violenza e della guerra. Grazie. 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 Grazie.